La nostra trincea non si vede, è il nemico, è lontano, protetto da strati di acqua ed acciaio, ma sta là col cuore che gli pulsa, proprio come noi. Foto di combattimento! Foto! Uomini in mare! Cosa facciamo, comandante? Petteremo su. Noi affondiamo il ferro nemico senza pietà. Ma l'uomo, l'uomo lo salviamo. Sono in guerra. Siamo ancora uomini, però. Noi affondiamo il ferro nemico senza pietà.